Sembra la trama di un film horror, ma purtroppo è tutto vero. Mattina da incubo ieri per una donna di 51 anni, residente nel centro di Montesilvano. Come ogni giorno, intorno alle 7, la donna stava uscendo di casa per andare al lavoro. Nell'androne del palazzo però ha notato una bottiglietta di plastica che impediva al portone di chiudersi. Chinatasi per raccoglierla, la donna è stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto, coperto da mascherine e cappello, che l'ha trascinata nel locale dei contatori del palazzo. In quello sgabuzzino l'ha immobilizzata, le ha tagliato alcune ciocche di capelli con delle forbici, le ha messo del nastro adesivo sulla bocca e una busta in testa. Voglio giocare con te, avrebbe ripetuto più volte l'aggressore, mentre pungeva la donna con una siringa sterile. L'uomo ha poi trovato dell'alcol nella borsetta della malcapitata, lo ha usato per cospargere le gambe della sua vittima, minacciandola con un accendino. Le sevizie si sono protratte per circa mezz'ora, fino a quando la presenza di un condomino per le scale del palazzo ha messo in fuga l'aggressore, ponendo fine alla traumatica esperienza. Lanciato l'allarme, la donna è stata trasportata in ospedale a Pescara in stato di shock, per poi essere dimessa con una prognosi di 21 giorni. Ora è caccia all'uomo, i carabinieri stanno setacciando le immagini delle telecamere della zona per identificare colui che ha osato pensare che una donna possa essere il suo giocattolo, se viziandola impietosamente. Stando alla descrizione della vittima, l'aggressore sarebbe un italiano di mezza età.